Buongiorno a tutti, qui siamo presenti per annunciare questo nuovo lancio, il lancio del touch mouse. Si tratta di un mouse con una superficie multi-touch che oltre che poter essere utilizzato come mouse tradizionale permette una serie di gesti a cui vengono associati determinate funzionalità. In questo caso sulla superficie io faccio un movimento con tre dita, molto semplice, ve lo faccio rivedere, magari, con tre dita e abilito una funzionalità di Windows 7 che è appunto un'antiprima delle cartelle che ho dentro nella barra dell'applicazione. Senza muovere il mouse eventualmente posso anche andare a selezionare la mia cartella, in questo caso vado a selezionare a cartella questa finestra di Excel e quindi la gestione delle cartelle può essere appunto manovrata dalle due dita, quindi con il tocco verso l'alto quindi molto intuitivo insieme all'integrazione del sistema operativo Windows 7 io posso andare a ingrandire la mia finestra piuttosto che ridurla, piuttosto che ad esempio affiancarla. Stessa cosa posso fare con una nuova cartella, quindi posso andare a navigare all'interno posso decidere di affiancarla come informazioni che mi occorrono sulla parte destra. Ho tante cartelle inserite all'interno del mio desktop, posso decidere di tornare sul desktop con un passaggio molto veloce e molto più rapido rispetto al passato che è con le tre dita e quindi io automaticamente riesco a visualizzare il mio desktop con un passaggio velocissimo. Le immagini molto intuitivo, anche questo io posso attivare la modalità zoom semplicemente scorrendo con un dito, quindi al tocco in verticale io vado a zoomare sulla mia immagine e quindi posso gestire, posso andare a vedere i dettagli dell'anteprima della foto e sempre con la gestione touch, però in questo caso del pollice, posso andare a scorrere le immagini lentamente in questo caso oppure velocemente attraverso lo scorrimento veloce sulla parte centrale della superficie. Il prodotto costa 69,90€, disponibile già nei più grandi centri specializzati italiani, costa 69,90€ dicevo al pubblico. Abbiamo la versione quella anche appena uscita che è l'Explorer Touch Mount, sempre con lo scorrimento in questo caso non multi-touch ma touch, sia in verticale che in orizzontale e poi la versione che già conosciamo è l'Arc Touch Mouse, tutti e tre, una gamma Touch Microsoft che permette fino al 15 novembre di partecipare a un'operazione a premio, quindi di vincita sicura, di una carta cinema 2x1 quindi si acquista il prodotto, si tiene lo scontrino, si va su www.touchandwin7.com e si può richiedere la carta cinema 2x1 per 6 mesi di cinema gratis per due persone.